Buongiorno a tutti e tutte, oggi riprendiamo a parlare del filobus perché intanto per rendere nota una lettera che l'MT scrive al Comune di Verona a gennaio del 2022 e poi perché nel mese di febbraio le proposte di variante sono state presentate in provincia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Intanto quello che emerge dalla lettera del Presidente dell'MT al Comune di Verona cita testualmente che il Ministero ha rimarcato il fatto che l'opera intesa come trasporto pubblico di massa sia finanziata da molti anni e che rappresenta un unicum nel contesto generale italiano, oltre a un ventennio e questa è la triste realtà, noi siamo l'unica praticamente città italiana che ha ricevuto un finanziamento più di vent'anni fa per un'opera doveva essere la tramvia e che poi l'amministrazione Tosi ha trasformato in filobus e siamo giunti al 2022, fra l'altro come tutti sappiamo doveva entrare in funzione nel 31 gennaio 2022 l'opera e non si è riuscito a fare assolutamente niente e il Ministero dice anche guardate che attenzione perché se non ripartite quei lavori e se non andate avanti noi siamo pronti anche a revocare il finanziamento e dice non ci saranno ulteriori proroghe, quindi siamo disponibili a valutare questa cosa ma non ci saranno ulteriori proroghe rispetto a questo. Fra l'altro di cosa parliamo? Allora è evidente che questa amministrazione non vuole fare campagna elettorale con i cantieri del filobus aperti e quindi ha rallentato tutti i lavori che dovevano essere fatti perché quello che succede è che si è presentata la variante, le proposte di varianti che riguardano temi noti, viale Spolverini e via Pisano, via San Paolo, città di Nims, deposito e mezzi di cui si è parlato per anni, se pensiamo in modo particolare per esempio alla variante di via Pisano e di viale Spolverini se ne parlava da anni, le ha presentati solo a febbraio, quindi vuol dire che ad oggi la Commissione via ha ricevuto i documenti ma deve ancora valutare, naturalmente viene chiesto di non assoggettare il progetto via ma questo significa che anche se arrivasse la risposta arriverà praticamente alle elezioni in corso o quasi e significa che non si potrà fare nulla fino a quel momento. Allora per esempio questo è un tema abbastanza importante, fra l'altro viene anche chiarito che queste varianti complessivamente costano 12 milioni di euro che il Ministero dice di aver già accantonato, lo scriviamo nella seconda parte del comunicato nel quarto capoverso. In realtà questa amministrazione ha ereditato un'opera, quella del Filobus, non è stata in grado di portarla avanti e nonostante anche che questa amministrazione come le precedenti toglie avesse detto che in pochi mesi sarebbe riuscita a far ripartire l'opera, si è bloccata, ha avviato un contenzioso con le imprese, ha ripreso in mano la cosa per arrivare alla situazione attuale. Ricordo che per esempio non abbiamo potuto approfondire nel comunicato stampa ma su via città di Nims c'è questa richiesta di riuscire a fare i cantieri praticamente in un tempo ristretto fra due vignitali. Ma viene anche chiesto, si scrive nel piano del traffico, che bisognerebbe ridurre il traffico privato del 25%, quindi bisogna trovare una soluzione perché sennò viene tutto spostato sulla circolvariazione interna e dicono che è insostenibile, ma è abbastanza evidente, tutta la viabilità tra Porta Paglio fino a Porta Nuova e naturalmente Via Le Piave e zone limitrofe. Di questo non sanno come fare, nel senso che viene indicata questa criticità, ma non viene assolutamente affrontata. C'è il tema che non viene, di cui non si parla qui, dei parcheggi scambiatori che sono obbligatori perché possa entrare in funzione il filobus, c'è il tema dei mezzi che sono cambiati perché alla fine sono stati tolti, vengono tolte una parte di fili che ci sono, ma naturalmente aumentano le batterie dei mezzi e si riducono e si riducono quelle che sono anche i posti per quanto riguarda i passeggeri. Altra cosa è chiaramente fallita anche quell'idea, si parlava di partire entro aprile con un percorso sperimentale dal deposito della Genovesa fino praticamente alla stazione, ma in realtà è evidente che vista la situazione e tutte le varianti che ci sono non si riuscirà a fare assolutamente niente. Lascio la parola all'ingegnere Campagnari. Ma io comincerei dalla variante dei tabacchi. Allora, dopo aver regalato 4 milioni con l'accordo sul progetto di strategico regionale alla proprietà che promuove l'intervento ai tabacchi, senza valide motivazioni, perché in quel caso il Covid non ha fatto nessun effetto perché questi dal 19 al 21 hanno sempre lavorato a demolire di tutto e di più. Si sposta anche il tracciato della tramvia e quello è uno spostamento sbagliato del filobus, è uno spostamento sbagliato perché non facilita per esempio l'accessibilità alla fiera, cioè spostando il tracciato poi la fermata si fa dietro alla manifattura tabacchi verso Viale Piave e non si fa davanti alla fiera che è l'altra follia di questo progetto perché è un progetto che praticamente trascura completamente la zona della fiera e delle golosine e va con due percorsi, tutti e due su Borgo Roma per poi arrivare al deposito. L'altra questione è quella che questi non hanno fatto niente per il filobus però sono riusciti ad abbattere oltre 500 alberi che quando hanno fatto il progetto, è la prima cosa che è venuta in mente, ma penso viene in mente a chiunque faccia qualsiasi progetto, uno quando fa un tracciato come questo del filobus avrebbe dovuto andare almeno a fare un sopraluogo a vedere che alberi c'erano, che tipo di effetti aveva sul verde della città questo tipo di trasporto che fra l'altro, perché è l'altra cosa che dovrà valutare con la valutazione di impatto ambientale la provincia, questo sistema di trasporto non è un sistema di trasporto rapido di massa su cui 30 anni fa l'amministrazione aveva ricevuto il finanziamento dello Stato, perché quando arriveranno ai cordoni della città, al limite della città, i passeggeri quelli della mattina, per dire l'ora di punta della mattina del trasporto scolastico, tutti quelli che arrivano adesso non potranno salire sul filobus perché questo non ha la capacità sufficiente per portarli in città, quindi una parte andrà sul filobus e una parte dovrà venire o arrivare a Porta Nuova oppure dovranno salire su altri autobus che li porteranno nei vari istituti scolastici, quindi un progetto che all'inizio dell'amministrazione sboarina doveva essere cambiato, si doveva prima di mettere mano ai lavori, anche in pendenza di un avvio di lavori dato dall'amministrazione torsica, avrebbero dovuto fare un po' di meditazione sulla questione per esempio via città di Nino, via città di Nino, non è una follia, ma è una cosa che se tu vuoi fare il filobus devi mettere in conto e quindi se pensi che blocchi per un paio d'anni la città, probabilmente rimediti il progetto, ma vai a parlare col ministero, non hanno fatto niente e poi si sono trovati a sei mesi dall'entrata in funzione del filobus che non riescono più a fare niente, quindi adesso ci sono le elezioni, ma se ragioniamo con la logica che ci sono le elezioni ogni cinque anni si vota, bisogna anche darsi dei tempi e rendersi conto che le cose vanno fatte, per esempio il RUP, non avevano il RUP, hanno aspettato 4, 5, 6 anni per trovare il RUP, quindi una serie di errori dall'inizio alla fine dell'amministrazione sboarina dopo i disastri dell'amministrazione Tosi. Poi volevo anche aggiungere che a finanziare l'opera, attraverso il mutuo, non sarà più per quanto leggiamo il Banco Popolare di Verona, ma sarà la Banca Europea degli Investimenti, anche se ad oggi, come abbiamo visto, il ministro non ha ancora valutato le ipotesi di varianti che sono state presentate, quindi noi ci ritroviamo a pochi mesi dall'elezione del 2022 con un'amministrazione comunale che non è riuscita a fare nulla sul trasporto pubblico e naturalmente poi parlano di dilettanti allo sbaraglio, parlano di candidati dal centro-sinistra che non avrebbero le caratteristiche, le qualità e le competenze. Se le competenze del centro-destra sono quelle di essere riusciti in 15 anni di amministrazione prima Tosi 1 e 2, poi sboarina, a non portare avanti nessun progetto del trasporto pubblico, mentre le altre città vicine a noi, da Padova a Brescia a Venezia, hanno portato avanti e realizzato importanti progetti di trasporto e hanno ottenuto anche nuovi finanziamenti che noi non abbiamo potuto chiedere perché non avevamo sistemi di trasporto di massa, vuol dire che i direttanti allo sbaraglio forse sono quelli che hanno amministrato questa città negli ultimi 15 anni. Ringrazio e ci vedremo comunque prossimamente per altre conferenze stampa. Grazie.